Good morning Milano! Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti! Come state? Venerdì 14 giugno! Venerdì, thanks God, it's Friday! È venerdì, che bello! Quanto è bello! Guardate allora, sapete che un settimana scorsa non sono stato bene, quindi avevo praticamente saltato completamente il weekend, stando male tutto il weekend, con la febbre, il raffreddore, la voce che ancora non è tornata del tutto, comunque va bene. Ma anzi, meglio così, così posso scaldare le vostre anime qui sulle frequenze radio di Crystal Radio, la mattina dalle 7 alle 9. Ma no, per una fascina da questo, appunto, stando male, diciamo che mi è saltato il weekend, cioè nel senso non mi è saltato gli appuntamenti, cioè non mi sono accorto che è arrivato il weekend, cioè lo scorso weekend è come se non fosse esistito nella mia vita. Tanto che lunedì sera, a un certo punto, quando ho cominciato a stare un po' meglio, ho detto, vabbè dai, sono stanchino, per fortuna che domani è venerdì. Peccato che era lunedì sera. Io è da lunedì sera, quindi fatto martedì, mercoledì e giovedì, pensando, dai vabbè, tanto domani è venerdì e finisce la settimana. Finalmente è arrivata la fine della settimana. È arrivata, sono contento, nonostante abbia fatto tantissime cose questa settimana, martedì il concerto di Vasco, ieri sera un fantastico concerto dei The Chorus che ci ha fatto cantare dai gospel alle canzoni più pop in maniera davvero a tenere il ritmo. Insomma, ci ha coinvolto davvero davvero tanto e vi consiglio appunto di seguire i The Chorus perché secondo me ne sentiremo parlare, come si dice in questi casi. No, davvero è stato molto bello, ma poi è una realtà molto interessante, molto in linea con Crystal Radio, molto in linea con tutte le belle realtà che vi raccontiamo spontanee che nascono nella nostra città. No, quindi ancora complimenti al Decoro ieri sera e soprattutto finalmente è arrivato il venerdì. Quindi domani è sabato, domani non si va a scuola, come diceva Pino Daniele, ma soprattutto oggi è venerdì. Godiamoci questo venerdì. Giannannini sei nell'anima e abbiamo aperto con Giannannini perché oggi la Gianna compie 70 anni. Ebbene sì, tanti auguri, tanti auguri a Giannannini che è appunto nata il 14 giugno e quindi tanti auguri. 70 anni e non sentirli sicuramente, avrete visto, la serie Netflix, ho dei pareri discordanti su quella. Cioè proprio io stesso, cioè sono una dicotomia interna, sono sempre spaccato dal mio interno. Allora, l'attrice, pazzesca, qualcosa di pazzesco. La storia, vabbè, è una storia interessante qua da Daniele, è una storia interessante. Come è stata messa in scena? Io ho un po' di dubbi. Ecco, sulla messa in scena della storia ho un po' di dubbi. Una vita rock raccontata in maniera ben poco rock, mi viene da dire. Però, vabbè, non lo so, nel senso, l'attrice, ripeto, adesso non ho qui sotto il nome, ma tanto va bene, la trovate. Davvero strepitosa, bravissima a fare Giannannini. Il resto l'ho trovato un po', così, una narrazione un po' che forse non... Cioè, ecco, una narrazione che non rende abbastanza l'idea e non rende abbastanza la narrazione rock, per quanto invece forse dovrebbe esserlo. Sicuramente molto più reale, molto realistico, forse un po' troppo neorealista, forse un po' troppo... Adesso mi passerò in un termine... Forse un po' troppo italiano, tra virgolette, no? Ok, capito nel senso, però vai. Siamo abituati ad altro su Netflix, forse per quello sono un po' così. Comunque, grazie ancora a Nello, che ci scrive appunto, grazie Fabio, perché? Perché Nello, oltre ad essere la più grande testa di shatsu che io possa conoscere, perché è uno dei conduttori, e anzi, uno delle colonne portanti del programma testa di shatsu qui su Crystal Radio, è anche un pezzettino piccolo del coro, ma non sto dicendo un pezzettino piccolo per denigrare il povero Nello, per dire che non è capace, anzi, ma perché davvero sono tantissimi. Cioè, è una roba, dove li vedete arrivare, questo bellissimo squadrone e sorridente, però, e quindi con queste canali di ieri sera, credo sempre, camicie bianche e sciarpa a collo rossa, e sono veramente tanti, un bel gruppo Nello è un tassello, un mattoncino di questo grande e bellissimo gruppo che appunto ieri sera abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare ieri sera all'Istituto Pedagogico della Resistenza, altro posto, secondo me, molto interessante in cui io vi consiglio di andarvi a fare un giro, fatevi un giro anche su internet nel caso, scrivete Istituto Pedagogico della Resistenza, leggete cosa fanno, poi secondo me vi viene spontaneo, naturale, ovvio, fare poi un salto nel mondo reale e andarli a vedere. Quindi va bene, fatevi un giro. Ancora ricordo appunto oggi il compleanno di Gianna Nannini, 70 anni, quindi abbiamo aperto apposta con la Gianna per fare un po' così gli auguri, speriamo gli arrivino i nostri auguri. Questo è la nostra mattinata in assieme che ovviamente adesso ci vede andare nelle strade, o meglio, che cosa succede? Ci colleghiamo con Luce Verde perché, lo sappiamo, nonostante le scuole siano chiuse, nonostante ci sia il bel tempo, stranamente, nonostante tutto quello che volete, sta di fatto che comunque il traffico a Milano c'è sempre. E quindi andiamo a sentire la fotografia proprio. In questo momento volete pensare che noi ci alziamo in volo, andiamo sopra Milano e facciamo una fotografia, poi ve la portiamo giù e ve la leggiamo. Quindi se soffrite di vertigini non dovete neanche venire su con noi a fare la fotografia, ve la facciamo noi, anzi, ce la fanno e tutte le mattine in ottima maniera e puntuali, chi? Luce Verde, appunto. Quindi andiamo a sentire Luce Verde per la situazione del traffico su Milano, nella provincia di Milano e anche sulle strade di percorrenza da Lombardia per sapere appunto com'è in questo istante il traffico. A voi Luce Verde! E mi sa che con la pesce di Martino, quando dicono belle minchiate, parlano con me, perché io, ma non c'è possibile che non c'è un giorno che vi becco la data giusta? E' bello che la leggo, ce l'ho scritto qua di fianco. Giovanna, grazie del messaggio che mi scrivi, che mi dici che oggi è il 14 e non il 13. Ho detto 13 a un certo punto, non so quando. No, quando ho fatto gli auguri alla Nannino, credo in apertura di aver detto che oggi era il 13 giugno. E ce l'ho scritto, ve lo giuro, ce l'ho scritto qua davanti. Ogni mattina, ho sbaglio la data, l'altro ieri ho detto che era il 10 gennaio, cioè cose del genere, vabbè. Comunque, comunque, oggi è il 14 giugno, va bene? Siamo contenti, ecco, forse, forse avrei dovuto rifare anch'io la maturità o essere rimandato a settembre, in qualche maniera. Perché vi dico questo? Perché leggiamo da Corriere della Sera a Milano, esame di maturità per 20.000 studenti milanesi, pochi i bocciati, cioè quelli non ammessi all'esame. Il sondaggio, però, rivela che, il sondaggio, mi piace il titolo, il sondaggio, cioè non si sa di chi, di cosa, comunque, rileva che un studente su tre è deluso dall'indirizzo scelto, e lo capisce, alla fine del percorso, insomma, non male come cosa che il 33% di loro non abbia... Beh, ma io sono stato uno di quelli, ad esempio, comunque, a me. Conto la rovescia per circa 20.000 studenti milanesi, 70.000 in Lombardia, che tra una settimana, mercoledì prossimo, quindi meno di una settimana, inizieranno a sostenere la prima prova dell'esame di maturità. Per molti di loro il verdetto di ammissioni o meno è già arrivato, alcuni istituti in questi giorni stanno facendo gli ultimi scrutini per le ultime ammissioni, pochi, quindi, quelli non ammessi all'esame di maturità. E c'è una lista, anche, che è molto interessante. Ad esempio, al Liceo Artistico Brera, su quattro non ammessi, solo due lo sono stati per il profitto insufficiente, e altri per altre motivazioni. Al Cremona ci sono meno di cinque non ammessi, al Galileo, Galilei, tre, tutti questi non ammessi per assenze, ad esempio. Al Caritano ci sono undici non ammessi, di cui tre però per le assenze. Al Tenka, undici non ammessi nei vari indirizzi. Al Virgilio, quattro. Al Berce, due. E solo uno all'Einstein. Al Agnesi e al Setti Carraro, ad esempio, zero non ammessi. Quindi tutti ammessi all'esame di maturità, va bene? Ecco, per esempio. Al Frisi, ad esempio, tutti ammessi nella versione diurna. Invece dice, ci sono un po' di non ammissioni per il serale, anche perché, lo dice, da quanto abbiamo capito, è fisiologica un po' questa cosa, anche perché molti che si iscrivono al serale, poi, ahimè, devono magari dover lasciare gli studi. Peccato perché, pensate, il 16% ha smesso di frequentare il liceo, il 21% il centro del professionale del serale, appunto, alla Frisi. Che è un peccato, soprattutto perché sono arrivati alla quinta. Quindi, insomma, è un gran bel peccato, ma sicuramente ci saranno stati delle motivazioni molto, molto valide. Secondo un sondaggio di Scuola Zoo, invece, che ha chiesto a un campione di 4.000 maturandi un bilancio del percorso di studi che si accingono a terminare, cosa è venuto fuori? Che, da queste risposte, il 60% dei liceali resta diviso, al 70% dei liceali, il resto diviso tra itis e professionali, emergono, appunto, luci e ombre. Uno su tre, tornando indietro, non rifarebbe lo stesso indirizzo. Quindi, sia licei che professionali, più o meno. Nel 63% dei casi, dice che non riflette più gli interessi e le passioni di quando ho scelto questa scuola. Cioè, in cinque anni, e ci sta, si cambia, si cresce, lo si fa a 40 anni, pensate quando lo si faccia a 14 anni. Anzi, tu la scuola la scegli praticamente tra 12 e 13 anni. Bene, sta di fatto che molti, quando arrivano alla fine del percorso, dicono che non è più quello che avrebbero scelto. Vabbè, tanti auguri per la maturità. E poi ne parliamo mercoledì, facciamo una diretta pazzesca. Andiamo davanti a una scuola in diretta con i maturanti. E gli applausi sono tutti per Ferla Mannoia, e anche per chi ci ha scritto... Ferla Mannoia, ho detto. Sì, sì, sì. Gli applausi sono per Ferla Mannoia. Non ho sbagliato stavolta. No, pensavo fossero per me. No, non sono per te, Ribi. Aspetta un attimo, subito che deve entrare, subito. No, perché Adriana ci scrive al 331-78-53-555. Buongiorno Fabio. Canto fortissimo in direzione ufficio. Immaginate, infatti, che il coro che si sentiva nella canzone non fosse solo della canzone, ma davvero anche dalle vostre automobili, dalle vostre walk... no, i walkmen non ce li hanno. Wow, vorrei tanto un walkman. Eccola qui. Gli eventi della settimana a cui io non andrai... Buongiorno, Ribi. Buongiorno a tutti. Come stai, come stai, come stai? Bene, bene, bene. L'ultima volta che eravamo seduti qua insieme stavi morendo. Più o meno sì, ma poi vedi... Si stava decomponendo, ragazzi. È vero, perché viene il discorso, tu sei stato uno delle ultime a vedermi ancora vivo. No, ma comunque la cosa più divertente è che poi io domenica mi sono decomposta. Sì, infatti, sono in ritardo di due giorni. Infatti potete sentire ancora questa voce molto sexy, molto affascinante. Ecco, sexy era la parola che mi mancava. Ecco, ecco, sai, sexy. Va bene, dai, Ribi. Comunque sempre a criticarmi, io non capisco perché. Gli applausi erano per me, chiaramente, prima. Chiaramente. Chiaramente, oppure per Adriana che ha cantato in macchia. Ma forse per lei era, infatti, infatti, infatti. Va bene, ragazzi, vanno alle ciance che qua c'è un sacco di... All'altezza del ponte di Bucinasco sul Naviglio che canta. Sì, sì, sì. Gli applausi del pubblico di Corsico, mentre passi. Sì, che potrebbero anche esserci, in realtà, vista la fauna. Dovremmo inventarci un festival. Dell'applauso. No, festival della canzone mobilitante, cioè nel senso viaggiante. Invece se ci fosse... Festival della canzone viaggiante. Bello, ci andrei molto probabilmente. Mentre il festival dell'applauso credo di no. No, il festival dell'applauso... Perché vi dico questa cosa. Vabbè, al dia di questo, a me applaudire mi imbarazza. Sta male le mani. No, mi imbarazza sempre. Perché? Ma in qualsiasi contesto, da un contesto piccolo a San Siro ad applaudire Vasco. Un pochettino mi sento a disagio. Vabbè, ed è che abbiamo che qui, insomma, dei problemi esistono. Ma forse perché non so applaudire. Ma fa niente, andiamo avanti. Dai, ne ho tantissimi, eh. Vai, vai, dici tutto. Allora, allora, intanto, vabbè, uno dove assolutamente non andrò è che oggi vengono inaugurati i bagni misteriosi. Ah, bene. Quella che molti chiamano la piscina di via Botta. Tu, e basta, ma se è rimasta a Milano a chiamarla così, solo tu. E viene inaugurata oggi, a noi non ce ne fregamo niente. Ma come? Un po' no, adesso stiamo un po' esagerando così. A me personalmente, a Eribino mi interessava. Va bene, ok. Ok, poi. Sai che ci sono gli europei? Sì. Ok. All'ippodromo, tutte le volte che giocherà l'Italia, è la prima, credo sia domani, contro l'Albania. Non vorrei dire una stupidata. Ci sarà questo evento che si chiama Football, che gioca con la parola Football. Club. Domani è dalle 20 all'ippodromo San Siro. Chef in camicia in occasione delle partite dell'Italia. In che senso Chef in camicia? Eh, si chiamano così, Chef in camicia. Ah, ok. Comunque, l'esordio contro l'Albania il 15 giugno. Sì, domani, domani, domani. A tal proposito... Iniziano oggi, tecnicamente. Ah, ok. Infatti, dal 14 giugno, dice. No, inizia dal 15 per le partite dell'Italia. Ah, assolutamente. Il 14 prima. No, no, non ho detto niente. Vabbè, comunque, questo è il primo evento dove tu sicuramente andrai. Dopo vi dico che cosa faccio io quando ci sono le partite dell'Italia. Ma dicelo subito. Allora, qualche giorno fa mi hai chiesto, senti, per caso hai il calendario delle partite dell'Italia? Sì. Hai detto, sì, ma quando è che ti metti a seguire le partite? No, perché quello è l'orario ottimo per andare a fare la spesa. C'è capito. Quindi io alle 20 e 30 inizia la partita. No, gioco anche alle 6. Perfetto, ancora meglio, perché sennò devo andare a trovarmi il supermercato che mi resta aperta fino alle 22. Allora, c'è qualcuno che sta scrivendo, invece, sul discorso del vergognarsi per l'applaudire. Adriana dice, Eribi, se puoi consolarti, anche io mi vergogno tantissimo ad applaudire. Mi sento ridicola. Credo per l'ingombro pettale. Cioè, credo che sia per il fatto che... ...è un avanzale generoso. No, non credo sia per quello. Tu perché hai le braccia corte? No, al dia di questo, che un po' è vero, comunque. Ma, no, penso proprio che sia una roba da non fare, ma che nessuno dovrebbe fare. Applaudito la schiena. Adriana, se te il problema è quello, applaudito la schiena. Cioè, io non mi vergogno a fare urletti, così non è un problema, cioè, di felicità. Non ti vergogno a fare urletti? No, no. Però applaudire è una roba che non mi piace. Va bene, ok. Quindi, Adriana, non so... Comunque è sempre bello trovare qualcuno che ha le tue stesse malattie mentali. Adriana, io ti do un consiglio, però, no, serio, applaudi sopra la testa. Ah, no, pensavo riduci il petto. No, no, si può fare applaudi sopra la testa, così non arrivi. Vabbè, comunque, lasciamo questa roba che è un argomento molto probabilmente da affrontare. Sì, ma con uno specialista mi viene da dire. Esatto, esatto. Comunque, vabbè, insomma, queste partite dell'Italia io vado a fare la spesa quando ci sono le partite dell'Italia. Ok, benissimo. Ah, a tal proposito, visto che l'Italia... Quindi, nella serie di eventi della settimana a cui andrei, è la spesa durante le partite dell'Italia. Assolutamente sì, e consiglio vivamente a chi non gliene frega niente del calcio. Eh, ma sono tanti ultimamente, quindi funziona. Ma no, secondo me no. Vabbè, comunque, a tal proposito, visto che l'Italia gioca contro l'Albania, vi segnalo... Altra parentesi vuol dire che non c'è nessuno in giro, perché, insomma, gli albanesi sono tanti in Italia, quindi la spesa la fai in dieci minuti. Vi segnalo questa sera, che non c'entra niente con le partite, ma fa niente, alle 21 in via Voltuno 32 c'è il Ciro e il Faromo in albanese. Ok, e questo ci andreste o non ci andreste? No, ovviamente. Cosa capisco? Oh, mamma mia. Ci abbiamo degli amici albanesi che li portiamo dietro e ci facciamo aiutare. Fabio, tu sei stato in Albania. Sì. Puoi capire che non si capisce niente quando parlano tra di loro. Però so dire gamberetti in albanese. Vabbè, bravo, diccelo. Carcalizze. Ecco. Grazie. Spero che non sia una parolaccia, in realtà ho appena detto una parolaccia. Io mi fio dei miei amici albanesi. Hai detto una parolaccia enorme. Va bene, quindi questa roba al Cinefarm ci andrai tu. Ok. Poi, vabbè, è un percorso mensile. Non so se ve ne avessi mai parlato. Percorso mensile? Sì. È un percorso mensile. Oggi c'è la puntata del mese di giugno. Dalle 19.30 alle 20.30 in via Morbelli numero 7 c'è Gypsy Spring percorso mensile di Gypsy Duende. Secondo me ne avevamo già parlato. Non si è capito niente. Allora, il percorso si chiama Gypsy Spring ed è il percorso mensile di Gypsy Duende. E chi è Gypsy Duende? È una persona che fa questa roba evidentemente. Ma roba cosa? Insegna a fare la cosa Gypsy. Ma cos'è la cosa Gypsy? Non ho capito. Allora, ragazzi, la peculiarità di questa rubrica è essere approssimativi. Quindi, possa farsi e basta. Ma se si balla, si canta. Si balla, si canta e si fanno delle cose scritte sull'evento. Te. C'è un po' forte. Vabbè, non si è capito niente. Così è ovvio che non ci vado. Vabbè, fa niente. Pensavo ti interessasse, visto che sei un po' Gypsy. Ma c'è Gypsy King? Questo non ho capito. Non c'entrano niente. Sennò avrai detto Gypsy King, no? C'è una musica balcanica. Può essere. L'immagine è una tipa che balla. La Taranta? No. No, non è quella. Poi, ti potrebbe interessare fare il battesimo della sella? Che cos'è? Eh, impari ad andare a cavallo. Beh, non sai che è una cosa che mi piacerebbe fare. Bisogna trovare un cavallo molto grosso, però. Cosa è body shaming? Lo so. Beh, sul cavallo. Però l'avrebbero fatto anche a me. Comunque, battesimo della sella e cibo dove... Scusate, battesimo della sella e cibo agli animali. Dove? All'agricola. All'agricola puoi fare il battesimo... Non ho capito, ma gli animali sono il mio cibo o io devo dare il cibo agli animali? Tu dai cibo agli animali. Stamattina è difficile, ragazzi. Ma quando si mangiamo il cavallo. Settimana scorsa stava morendo, invece questa settimana qua è importante. Comunque, il 15 giugno è il 10.30 e il 16 dalle 18.30. Quindi c'è sia la versione della mattina che la versione della sera. Ecco, va bene. Inaugurazione, l'ho già detto. Tu sei un appassionato di Game of Thrones. Per niente. Allora, lunedì in tutta Italia su Sky uscirà la seconda stagione di La Casa dei Draghi. La Casa dei Draghi, diciamo. The House of Dragons. House of Dragons. Che cosa succede al castello? Arrivano i draghi. Arrivano i draghi, esattamente. Si trasformeranno in Westeros, che è l'ambientazione, diciamo. Aspetta, sai cos'è? E' l'ogurz vostro. Esatto, esatto. Per la proiezione del primo episodio è in lingua originale. Quindi che cosa andate a capire? Anche perché chi lingua parla è un drago. La domanda è questa. In contemporanea con gli Stati Uniti d'America, a partire dalle 22.30 di domenica 16, ci sarà la proiezione all'interno del castello sforzesco. Bello. Allora, io ho mai più nella vita, cioè nel senso, vi spiego perché. Ho visto l'ultima puntata di Il Trono di Spade, insieme a delle persone, e ho deciso che non lo voglio più vedere con nessun'altra, se non con la mia amica Marilena. Perché ci dobbiamo... È distraente. Sì, sì, sì. Quindi da lunedì inizierà questa... Quindi tu non vai al castello perché ci sono gli altri. Sì, ma poi soprattutto, sapete perché non ci vado? Perché ci sarà la gente invasatissima. Cioè, va bene, ragazzi. Cioè, non è che vado a vedere... Vestiti dai neri, sai come si chiama? No, aspetta, no, cento niente. Cento niente. Ma, cioè, è come se andassi a vedere le puntate di Bridgerton vestita da Damina del Settecento, no? Però posso dire, Ribe, questa volta che staresti molto bene vestita da Bridgerton. Forse sì, da Bridgerton è una delle cose che potrei fare, effettivamente. Comunque non spoilerate perché anche ieri è uscita questa roba. Ieri è uscita la seconda parte della stagione attuale di Bridgerton. Quindi nessuno deve spoilerare questa roba. Ok, ricordo sempre che l'attrice che fa Bridgerton ha fatto un'altra serie bellissima che trovate su Sky, solo in lingua originale, ma è qualcosa di pazzesco e stupenda, che è Derry Girls, invitata appunto nell'Irlanda del Nord. Non c'entra assolutamente niente con Bridgerton. È molto precedente anche... Nonostante lei, vabbè, in realtà interpreta una ragazzina del liceo quando in realtà comunque c'era già quasi 30 anni. Però nel senso... Sì, esatto, perché non è neanche piccola. No, 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 però... Anzi, mi fa capire che... E fa un personaggio completamente diverso da quello che fa in Bridgerton e soprattutto... Però mi sento di dire che la fisionomia delle donne, soprattutto inglesi, quando invecchiano, invecchiano molto avanti nel tempo. Ok, aiuta a mitigare il passaggio dell'età. Sì, 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 sì. Pensate alla regina Elisabetta, è stata giovane per una vita. Ancora giovane adesso, pensa. Sei tu che mi hai detto che la regina Elisabetta e Mary Lou avevano la stessa età? Sì, nel senso, abbiamo visto questa cosa che effettivamente la regina Elisabetta e Mary Lou Rosso è nata allo stesso identico anno. La differenza nel nostro ideale è che appunto da una parte la regina Elisabetta è sempre stata anziana per noi e invece Mary Lou non è mai potuta essere anziana. Quindi c'è questa cosa strana nel nostro cervello che flippa quando ci pensi a queste due cose. Ok, ti faccio flippare un'ultima volta. Va bene, vai. L'ultima volta è l'ultimo evento di questa settimana che è Milano diventa la capitale delle bocce, perché c'è l'imperdibile weekend dedicato alla specialità Raffa, che io non so cosa sia, alla bocciofila Caccialanza, che forse tu sai dove sia, da domani e dopo domani. C'è la capitale delle bocce, quindi tutti i ragazzi a giocare a boccette. Via Padova, in Via Padova la Caccialanza, circolo di bocciofila Caccialanza in Via Padova 91. Bello, ti piace, questo ti piace? Sì, si mangia anche. Ecco, ma tu trovami un evento dove non si mangia. No, non un evento, proprio la bocciofila, e c'è un ristorante, credo, o è il ristorante della bocciofila, mi piace come si chiama, perché si chiama Di Base Si Mangia. Bello. Bello, vedi, ecco, quindi magari tu non vorresti, perché non vuoi andare a vedere le bocce, però scusa? Che è un po' noioso. Ma non è vero. No, sai che cos'è? Poi si vestivano dietro. Di base c'è una roba, mi piacerebbe giocare a bocce, quando ero bambina al mare. Mezzo campione. No, no. Sì, le bocce del mare non contano. No, fermati, stavo dicendo tutta un'altra cosa. Quando ero bambina, per andare al mare, passavo da un campo di bocce, dove c'erano i vecchi abruzzesi che bestemmiamano. Eh, vedi. Però mi fermavo lì a guardarli, è molto noioso da guardare, da giocare, è più divertente. Sì, 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 io dico sempre come il baseball. Non so perché, se il baseball era pallosissimo da vedere, ma la giocare è divertentissimo. Attenzione che Adriana, che ci sta seguendo, secondo me ha fermato la macchina, non è uguale o dentro una video, non lo so in questo momento, ma ci sta seguendo, dice, attenzione però per le bocce, perché se ci sono i nonni potrei trovare marito. Così ha detto, quindi, insomma, devo dire che autostima alle stelle. Punto in alto proprio. Alle 7.48 del mattino, però, questo bagno di oggettività e realtà anche no. Certo, certo. Va bene, io avrei terminato, la prossima settimana farò eventi dedicati al passaggio del tempo. Non è vero. Aspetta, aspetta, non ho capito in che senso. Non è vero, perché questa che mi presta a vivere è la mia ultima settimana da giovane. Perché? Perché poi faccio 41 anni. E fino a 40 anni sei giovane, 41 non lo sei più. Sì, secondo me inizia così, non sono più i 25, non sono più i 30, ma sono arrivati i 40. No, sono già arrivati i 40, avevi già 40 anni, te lo dico questa notizia. No, però stai passando oltre i 40. Quindi sono finiti i 40. Finiti i 40, basta. Questo discorso, secondo me, lo risenteremo identico fra 4 anni, quando dici, no, beh, perché non sono più i 40, sono i 46, capito? Comunque è un grande trauma. Vabbè, tranquilla, puoi anche utilizzare un mezzo pubblico come la radio per fare terapia se vuoi. Però magari c'è qualcuno che mi può aiutare. Così, ecco, se fai un appello a chi ci sta seguendo, magari... Ma perché non facciamo un evento noi? Ma quando? Cosa? L'ansia del compleanno. Su Facebook troverebbe sicuramente, tra la lista degli eventi che trovi, il titolo va Benissimo. Posso ringraziare? Che cosa? Di essere stata qua anche oggi, di aver fatto questa bella trasmissione, di avermi dato questo bellissimo spazio. Comunque posso dire, i miei ospiti non è che ringraziano così, mi stai denigrando, mi stai denigrando i miei ospiti della settimana. No, assolutamente no, e vorrei fare tantissimi complimenti in realtà a Tamara, che riesce a dare anche i mezzi pubblici per arrivare al luogo. Eh sì, lì mi ha stupito sempre. Cioè, io non so neanche dove siano i miei posti. Scusa, cos'è? Io non so neanche dove siano i miei posti. Cioè, tu un indirizzo qualsiasi, potrebbe non esistere. Cioè, la base di questa rubrica è essere, io vi do un'idea, voi fate un po' come volete. Cioè, nel senso, io non ci andrei, voi ci andreste. Quindi, se siete interessati, cercatevi e informatevi. Cioè, il sottotitolo della trasmissione è, gli eventi a settimana a cui non andrei, fate un po' come volete. Sì, sì, spannometricamente. Oh, io vi dico un po', io fatti voi. Ah sì, secondo me ce la potete fare. E dai, così potrebbe essere da Eribi e dai. No, sarebbe troppo romano come roba. Ah, ok, no, va bene, ok. Va bene, dai, andiamo con un po' di musica. Grazie mille Eribi. Ciao, ciao. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre qua con gli eventi a settimana a cui Eribi non andrebbe. Andiamo invece con un po' di musica, noi quella musica ci piace e quella è di Noemi, non ho bisogno di te. Noemi, non ho bisogno di te, invece ho bisogno io di qualcuno che mi venga qua a dare un supporto perché vedete, chi ci sta venendo in questo momento su Milano News, la sedia al mio fianco è vuota ma fra poco avremo qui Silvia Gatti con noi in diretta perché oggi sì, non ve l'ho detto, anzi l'ho dato per scontato perché sapete che tutte le mattine siamo, insomma, la coppia della trasmissione siamo io e Elisa Galmarini, la produzione, la redazione produzione che appunto fa tutto dietro le quinte, la vedete su Milano News quando andiamo nei fuori onda, ecco, questa mattina invece non c'è, sono da solo che sto facendo un po' il one man show, cerco di mandare avanti un po' la baracca con tutti i pulsantini qua, insomma, e quindi ho bisogno di supporto e quindi arriva fra pochissimo appunto Silvia Gatti a darmi supporto, non tanto con i pulsantini, ma almeno io faccio parlare un po' e lei mi riposo così, intanto ho idea che Silvia Gatti senza argomenti non esista, cioè Silvia Gatti che sta in silenzio non esiste, quindi siamo tranquilli che possiamo andare, anzi il problema sarà sparargli alle nove per fermarla e fare in modo che torni, sparargli per fermarla ma non troppo perché poi mi serve anche venerdì prossimo, quindi insomma dobbiamo stare attenti a tenercela buona perché dobbiamo tenercela cara e buona, la buona Silvia Gatti. Comunque andiamo adesso ancora un attimino in pausa, ma prima vi ricordo una cosa, anzi ve lo dico, mercoledì primo giorno della maturità 2024, saremo in diretta la mattina da davanti all'Istituto Carlo Porta di Milano, zona Bonola per intenderci, un alberghiero che va appunto a maturità quel giorno, quindi intercetteremo chi vorrà fermarsi, non ci manderà quel paese perché è in ansia da prestazione per la prima prova, e noi ci metteremo lì davanti e faremo la nostra trasmissioncina tranquillamente dal nostro studio mobile davanti alla scuola, appunto davanti al Carlo Porta. Questo succederà quindi mercoledì 19 mattina dalle 7 come sempre in diretta, ma saremo in diretta live dal Carlo Porta, quindi da via Uruguano, via Quarenghi credo sia ancora quella, credo sia via Quarenghi quella comunque, va bene? Andiamo con la musica, piccola pausa per il giornale radio, poi torniamo appunto perché Silvia Gatti la vedo già scalpitare dietro il vetro della nostra regia. Andiamo con la musica, My Sharona. Amedeo Minghi e Mietta con Vattene Amore alle 8 e 10 minuti, molti sicuramente di voi avranno cantato, vi dico solo che mia mamma quando uscì questa canzone cantava trottolino adiposo parlando di me, vabbè. Oh, è il catto sul tetto che ascolta, tutto come fosse la prima volta, Lui sempre fissa che scrotera della nonna Quelli battano in su Piocchi più Tipo il Newman Se vi piace chiamatemi Silvia Gatti, eccola qui Buongiorno direttore Rotolino Adiposo Dudù e Dada Dada, com'è? Lasciamo stare, lasciamo stare Come va? Tutto bene, te come stai Silvia? Tutto a posto? Senta, le devo segnalare una cosa Mi sono messa la crema idratante sulle mani e sui gomiti Quindi dopo il tavolo ne subirà le conseguenze Il tavolo qui dello studio Ma sento anche un buon odore di pino silvestre Non è pino silvestre, è menta e lime La mia crema Il lettore non mi riconosce Comunque le fragrances Grazie anzi per provare un po' di profumo In questo studio, perché con me due ore dentro Non è che sempre Ah, ma che piacere L'ha detto lei, non l'ho detto io Comincia a fare caldo questo studio No, no, guardi direttore Lei emana fiori Non possiamo accendere il condizionatore Sennò si sente nei microfoni E quindi la porta aperta dentro fuori Ma il 28 giugno, mi spiace per voi Ma noi andiamo in vacanza Proprio ciaoni Fra l'altro non ci sarò purtroppo Perché sarò a mare, a bagno Proprio salutando All'idroscalo In zigilia vada Ah, hai capito Però venerdì prossimo Mi ripropongo come le cucurbitacee Bene, bene, bene No, no, no Molto più digeribile Ah, grazie Le cucurbitacee No, no, no E a parte che ho sentito prima Che ti lamentavi Che hai detto che Ho detto che parli troppo No, ho detto che parli tanto Non troppo Che diverso Una sottile differenza Eh, beh, beh Una sottile differenza Comunque sì Mi lamento sempre Proprio questa cosa qua Comunque Ma hai sentito che 20.000 studenti Andranno a fare l'esame in maturità Sì Tu l'hai fatto? Ma certo Se no non sarei qui, credo Io non l'ho fatto invece Quindi vabbè In che senso? Non niente, la storia è lunga Di cui mia mamma ancora Ne implica le conseguenze Psicologiche Soprattutto povera donna Lo vogliamo sapere dopo Non niente, non niente Ma come? Adesso chiamo la signora Signora? Sì, sì, sì Si chiamano la signora Daniela Daniela Comunque Tutti ammessi però Praticamente tutti ammessi Li bocciano prima Giustamente Ci sta? Beh, meglio essere In quarta che c'è la segata No, no Anche prima dell'esame in quinta Era il figlio di una mia amica Purtroppo Però meglio così Quest'anno è successo Sì, meno peggio nel senso Tu fai l'esame Poi ti bocciano pure Ok, volevo dirti questo Non dirglielo Che in realtà È uno dei pochissimi Che non sono stati ammessi all'esame Cioè quest'anno La percentuale di gente Che in realtà È stata già ammessa all'esame È altissima Va bene Proprio tutti dentro E vai Più o meno Sì, questa è la notizia Che abbiamo letto Dal Corriere della Signora Questa mattina Insomma Stato fatto così Molto bene Com'era la famosa notte Prima degli esami No No perché eri drogata Ero fuori Allora Dopo spiegherò Cos'è successo Al mio esame Di quinta superiore Era un istituto tecnico A parte che ragazzi Io ero una punk Di quelle dure Ma proprio estetiche In quell'istante Proprio anche Sì, io vestivo Stile England 77 Andate a vedervi Delle foto Di chi gironzolava Intorno alla boutique Sex Di Vivienne Westwood A Londra Chi girava intorno Ai Sex Pistols E quindi è stato Ecco Difficoltoso E poi Difficoltoso in generale La mia vita In quel periodo Quindi Però sono passata Con un bel calcione No ma io me la caga Caga No anche Me la cavavo Perché Perché parlavo tanto Me le intortavo Vedi Me lo immagino L'esame orale Di maturità Di Silvia Gatti C'è un certo punto Va bene Va bene così Vada via Sulla fiducia Sulla fiducia Musica Amy Winehouse Back to black Amy Winehouse Back to black Quanto ci manchi Amy Lo devo dire tutte le volte Ma me lo sento Proprio dal cuore Dirtelo Non ci manca Ma perché per fortuna È qui Se non fosse qui Ci mancherà Tantissimo Invece Silvia Gatti Beh grazie Comunque Ti è Eri ti è Però ok No ma non se non fossi qui Appunto Il 28 Te andrei in Sicilia Allora ci mancherai Grazie Sono viva Sì ma ci mancherà Ma può mancarci anche se sei viva Non faccio Grazie Che carino che è Direttore stamattina Ma facciamo una festa Con bere e mangiare Anche venerdì prossimo E non per forza Fra due venerdì Niente Vediamo Spieghiamo Chi ci ascolta Poi Milano News Farà una festa Con tutti gli stagisti Passati E quando E venerdì che non ci sei Ah proprio quel venerdì Per quanto l'ho invitato Ma uffa Soprattutto con tutti gli stagisti Che sono passati A studiare qui da Milano News Dal 2016 A oggi Sono 80 Io ho dovuto mandare 87 whatsapp Uno alla volta A gente che non sentivo Anche da 3-4 anni Tutte queste ragazze Ragazzi che sono passati qua In questi anni A Milano News Verranno appunto A festeggiare La fine della stagione Insomma siamo ben contenti A parte che dove si scrocca Da bere e da mangiare Uno va tendenzialmente Sì c'è un problema Nel messaggio scritto Ognuno porta qualcosa Ah o venite mangiati Ancora meglio No problema qual è stato Vedi da stemio Non ho fatto proprio Questo ragionamento Sì c'è a stemio Adesso me ne vado C'ho anche questa Ce le ho tutte Non ho fatto questo Ognuno porta qualcosa Sì E giustamente I miei valdi Giovani mi hanno risposto Dicendo Ah ok Fammi capire Ma devo portare Anche da mangiare Oppure basta il bere Loro vanno subito Sull'alcohol Proprio I giovani d'oggi E lì ho capito Che avevo fatto Una stupidaggine Devi precisare Non precisare Che volevo dire No da mangiare Una nuova cantina Milano News Mal che vada Una pizza La troviamo A volo Sì 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 Va bene Invece Milano Leggevo prima La Cosa della Sera E volevo condividere Con voi E questo titolo Che come al solito Fa capire tutto E fa capire niente Dice questo Mercato immobiliare a Milano Aia Vendite ancora in calo Strano Costa così poco I prezzi City Life Porta nuova Con le nuove costruzioni Battono il centro Incremento Però Il maggior incremento Il 25% in più Non so rispetto a quando Perché come al solito Schiverle mene Sarebbe chiedere troppo È registrato in Bovisa Veramente Da Bovisa Io ho sempre detto Bovisa is the new Nolo Perché L'altro quartiere In super crescita Nolo Con il 22% Che è Nord Loreto Nord of Loreto Quindi Silvia Si vendono meno case Ma costano di più Ecco E quindi Tutti in provincia E vai Dici che è quello Il problema No Il problema Credo sia proprio Milano Ho sentito di gente Che abita a Torino E viene a lavorare a Milano Tranquillamente Comodo Un'ora di treno Giustamente Devi anche essere vicino Alla stazione E a Torino E a Milano Tendenzialmente Però Proprio gente Che abita Non a Milano Perché non se lo può permettere Di fatto E quindi Questo è Comunque Ci sono tanti bei posti Anche fuori Milano Adesso non voglio dire Qualcosa contro la città Ma è veramente assurdo I prezzi sono Veramente schizzati Alle stelle Stamattina sentivo in radio Gli studenti La maggior parte Degli studenti Del sud Che vengono a studiare a Milano Se non ci fossero dietro I genitori Non potrebbero assolutamente Permetterselo Ma non perché fanno Troppi aperitivi È proprio costoso Paghi gli studi Paghi quello che ti serve Quotidianamente Per vivere Paghi anche gli affitti Fra l'altro Parentesi Gli affitti Ho sentito Veramente Anche di persone Che affittano solamente Un posto letto Però In condizioni Improponibili Muffa sui muri Umidità Sottoscala Ma che è Una roba improponibile Un'amica In via Padova Aveva trovato In bagno Una turca Beh non male No non è normale Fabio C'è una signora Che era da Turchia No scusami Il bagno No la signora Non era chiusa Che passava di lì Il bagno Vabbè Sai come dice mio papà Tutto questo Per la modica cifra Grande e ciula No no la cifra Non la so Però Immagino comunque Un posto letto Un posto letto Stiamo sui 500 Non vorrei dire una cavolata Un posto letto 400-500 Stanze in condivisione Anche di più Stanze in condivisione In condizioni Anche di più Pensa un'altra Aveva affittato una camera Attraverso la quale Bisognava passare Per raggiungere la cucina Perché di fatto Prima era il salotto Non male Ma tu capisci È improponibile Eppure Chiun che andasse in cucina Eppure Si riesce ad affittare Eppure poi In più La gente ha bisogno È scorretto però È veramente scorretto No 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 Sì sì Di un certo punto però ci sta Perché Quello è quanto Infatti molti Cominciano a pensare Che Milano Non sia più La città Per il proprio futuro Il problema è che Le migliori università Sono qua Sì è per studio Stavo parlando Per lo più di studenti Oppure persone Che dicono Le grandi aziende sono qui Che devi fare Altre persone Che dicono Piuttosto di pagare un affitto Vedo Chiedo un mutuo A questo punto Effettivamente è una sorta Di ricatto quasi Cioè nel senso Certo È vero È vero Da questo sistema Va bene Tu sei a posto con la casa? Io ho avuto fortuna No l'ho ereditata Oh bene Oh Oh una gioia Me la lasciate nella vita Non ho un uomo Non ho i gatti Che sono allergica Sono ingrassata Lasciatemi in pace Oh Almeno C'ho la casa Questo potrebbe essere Almeno c'ho la casa Dopodiché Però sul curriculum Potrebbe essere una cosa interessante Ho la casa Seconda volta Una volta era auto munita Invece è casa munita Casa munita Ok Magari un uomo lo trovi Non voglio nessuno Via Basta via Ognuno a casa sua Come si diceva una volta Neanche proprio Non ti conosco Va bene Quindi se volete Conoscere la simpatica Silvia Gatti Qui con noi L'amorevole Aperta Delicata 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 Qui con noi Invece adesso noi andiamo Con un po' di musica E poi Piccola pausa E poi torniamo qui ancora Va bene Insieme a Silvia Gatti Un po' di notizie Così ce la chiacchieriamo Un po' insieme 3317853555 Il numero di Whatsapp Adriana non c'è più scritto Credo che sia già andata Perché c'è Sì Ho un fan No c'è un evento Di bocciofide A Milano Ecco Adriana ha detto Corro là perché ci sono i nonni E quindi potrei trovare marito Vai di bianchino Alle dieci e mezza Già Quindi non vorrei che abbia Girato l'auto Invece di andare al lavoro E andata A un campionato di bocce In Via Le Padova Va bene Andiamo con la musica I Bee Gees Baciami stupido Marisa Scusate Continuiamo a siacere No toccavo il pulsante Per entrare in onda E non lo prendevo Ma era un intermezzo No ma che dici Comunque brava Brava Vedi ecco così Quando il professionismo Arriva La faccia da chiulo Si fa così Ah si chiama faccia da chiulo Da chiulo anche sì Va bene Baciami stupido Quante volte l'hai detto Silvia A quelli lì Che non si O che erano duro a capire Dovevano baciarti in quell'istante Eh no Baciami e non usavo stupido Usavo un'altra Di solito li bacio io Non aspetto Grande Aggressiva Questo è il vero femminismo Altro che altro che brava Limonavo pure i pali della discoteca Vabbè Benissimo Oggi sono contenta Si si fa gli anticorpi Se c'è il nuovo Non ce la faccio Si si fa gli anticorpi Facendo quella cosa Il nuovo avorbidente Volevo dire Ah ecco perfetto Sì è così Adoro E va bene Sono le stagioni Della nostra vita A proposito di stagioni È finita La stagione Di Chiara Ferragni E Fabio Maria D'Amato Perché Molti cambiamenti Le aziende della Ferragni Cambiano direttore generale Esatto Ho letto il titolo Da Repubblica In questo caso Chiara Ferragni E Fabio Maria D'Amato Si separano le strade E tu dici Ma non ancora Questo gossip Che parla Quando poi in realtà Il titolo potrebbe essere Ad esempio Fenice TBS Crew Cambiano il direttore generale Ferragni Che decide per la ristrutturazione Rinnovamento aziendale E poi però non mi clicchi Se mi scrivi così Se la metti sul Il patetico Nel senso di Pathos Allora sì In realtà Fabio Maria D'Amato Ha rilasciato Un'intervista Per la prima volta Comunque un comunicato Un intervista E' la prima volta Che lui si espone Riguardo a questa faccenda A onore del vero Dobbiamo dire anche Che lui Ha negato Di essere stato Licenziato Ha detto Che voleva già Andare via A febbraio Ma gli è stato chiesto Di rimanere fino a giugno Anche per il bene Di tutte le persone Che lavorano Per le due aziende Di Chiara Ferragni Ricordiamoci Che mentre noi guardiamo L'ultimo giro Di Fedez in Ferrari E l'ultimo Giacchino Di Miu Miu Di Chiara Ferragni Ci sono delle persone Che hanno temuto Di perdere il lavoro Perché sono due aziende Qui c'è sempre un po' La personalizzazione Che ci sta per un'azienda A persona Però non è Oltre il gossip Questa è la notizia Che dovrebbe essere Scritta sulle 24 ore Perché è due aziende E questo che non capiscono Molte persone Cioè è inutile Che si scriva Ancora i Ferragni No Non sono solo i Ferragni Sono notizie di Vogliamo dire Quasi di economia Di gestione di azienda Non la paragoniamo Alla Ferrari Alla Fiat Ma se fosse Un'altra azienda Qualsiasi Qui dell'Inter Andare da Manufetter Una bella azienda Un bel mobilificio Un mobilificio In Brianzolo Ecco Leggeremmo Che i sindacati Fanno la mozione Ma certo che sì E so che ha preso Molto le redini La mamma Di Chiara Ferragni Non so se solo A livello però Di fiducia O anche pratico C'è da dire Che anche loro Non fanno niente Per far sì Che non si agossi Perché è tutto sto casino E poi Mamma Vieni qua un attimo Ma forse Dillo la mamma Dillo l'avvocato Dillo la mamma Dillo l'avvocato Ah Parentesi Muschio selvaggio Adesso è completamente Di Luis Sal È stato decretato questo Comunque Non so che abilità Abbia Marina Di Guardo Che è una scrittrice La mamma di Chiara Ferragni Per quanto riguarda La gestione delle aziende Però penso che faccia Più solo nome Ecco Non sono sicuro Fabio D'Amato Ha specificato Che ha curato anche Luca Vezzil O Vezzil L'ex di Valentina Ferragni Valentina Ferragni Il truccatore Mameli Di Chiara Ferragni Quindi lui ha voluto Precisare Che lavorava Non solo per Chiara Ma ha seguito Altre persone anche Quindi si è tolto Dei macigni Dalle scarpe Probabilmente Griffate E soprattutto Ha detto Non appartengono a me Quelle mail Che L'azienda Di Chiara Ferragni Ha scambiato Con Balocco Dove si diceva Che Ce ne fregavamo Dei bambini Dell'ospedale Eccetera E di chi erano Allora Boh Non è dato saperlo Ha detto che Non si può molto esprimere Però ancora Sul Pandoro Gate Beh perché c'è un'indagine In corso Lui è tra quelli Indagati In questa indagine Quindi giustamente Nel senso È stato zitto finora Però lui Non ha Complimenti Anche a me Anche a me In un momento In cui chiunque Apre bocca E dice la prima cosa Che gli passa per il cervello Fa capire che forse Appunto Ripeto Non stiamo parlando di gossip No Stiamo parlando di Manager Più o meno capaci Più o meno onesti Poi lo capiremo Lo capiremo Lo vedremo Anzi Non saremo noi deciso Sarà deciso Le magistrature E chi per esso Ma che fanno i manager Cioè che fanno le aziende Che fanno economia Che fanno lavoro Non che sono qui a È vero A postare solo La cabina armadio Certo Fra l'altro lui ha detto Ci sono state delle colpe Ma non sono tutte mie Cioè è anche giusto Infatti Selvaggia Lucarelli Stranamente Ha condiviso Vabbè non stranamente Ha condiviso Questo comunicato Di Fabio Maria D'Amato Ma ha anche detto Che lui Stava probabilmente Lavorando in un ambiente Totalmente privo di idee E stimoli E probabilmente uno come lui Che magari è anche capace Messo in un ambiente così Alla fine Ha sbagliato Una captazio benevolenza Sì Guarda Io Selvaggia Sai che la seguo Ovunque vada Qualsiasi cosa dica Vado subito a guardare E poi vabbè C'è anche la parte gossip Che non manca mai Le vogliamo parlare Dopo la pausa musicale O no Sì dai Perché sennò parliamo troppo Teniamo il gossip Teniamo con un po' di musica E poi Parliamo anche noi Di gossip Megan Trainor Tip in Being Like This Alle 8.44 Aspettavo che passasse Il secondo giusto Qui su Cristal Radio Good Morning Milano Insieme a Silvia Gatti Stavamo parlando appunto Del caso Non del caso Cioè del cambio Di direzione Sì Alle due aziende La Fenice E TBS Crew Di Chiara Ferragni Quindi Fabio Maria D'Amato Non sarà più Il direttore generale E stavamo dicendo appunto Che questo non è gossip È tutt'altro Però c'è anche del gossip Perché poi arriva Lo producono Non so come dire Sono aziende che producono gossip Assolutamente Ma è un gossip Ancora una volta Così costellato di strategia Perché Andiamo ad analizzare Alcune foto Uscite su Novella 2000 E altri account Instagram Il rotocalco Il rotocalco Cosa vuol dire Rotocalchi Per i dati del 2006 Quelli che rotolano Ok Addiposi Allora Fedez Una modella francese Li hanno visti Da Cracco Ristorante caro Alla coppia Chiara Ferragni Fedez Dove cenarono La prima volta Che uscirono insieme E dove ci fu Questa cena Di San Valentino Però sponsorizzata Dove si vedeva Solo una mano di Chiara Perché secondo me Già San Valentino Non l'hanno festeggiato Nel 2024 Chiara e Fedez Si affacciano Sulla balconata Di Cracco Che dà in Galleria Esatto Vengono fotografati Ma Gli hanno fotografati Ok E poi giretto Sulla nuova Ultima Ferrari Di Fedez Questo è uno schema Paro paro Preciso Di quello che è successo Quando invece Chiara Ferragni Ha cominciato a frequentare Fedez Credo nel 2016 Cracco Più giretto In macchina Luxury Ok Nel frattempo La Chiara Non è che adesso Non me ne voglio Non è che aveva una Ford Fiesta All'epoca Neanche una Panda Credimi No Adesso ha la Ferrari Prima Ma guarda che Fedez Prima di Chiara Viveva al bosco verticale Ragazzi Non certo A Buccinasco Non è più il ragazzo Di Rossano Stesso schema Appunto di anni fa Dell'inizio della storia Con Chiara Ferragni Nel frattempo Chiara Ferragni Mi si fa vedere a cena Con il trapper Tony F Tony F Tony F Tony F Io ascolto Mina Anche con Tony F E voi mi direte Embè Embè aspetta Ah ma noi gli piace il rap davvero Sì Le piacciono Non molto alti Tatuati E repusi Tony F è romano Un grande successo Nell'ultima sua canzone Sesso e samba Con Gaia Come se la conoscessi Ecco Succede che vanno a cena insieme E quindi Chiara Mattevoi fa L'ex amico di Fedez Perché erano amici Ah Tony F Era un amico di Fedez Sì era Adesso Fedez ha litigato anche con lui Pare Fedez ha più ex amici Che altro Veramente Che senti No poverino No 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 Per dire Chiara Ferragni Che si fotografa Ultimamente Con la marca Miu Miu L'abbiamo detto prima Con il brand Miu Miu Uno dei pochi rimasti Forse l'unico Dove si sta taggando Continua Quindi a Continua la colla Ma come mi si chiama L'ultima song Una delle song Scusa Di Tony F Una delle canzoni di Tony F Come si chiama Miu Miu Ah Eh tac Grazie Selvaggia Lucarelli La stranominiamo Le fischieranno le orecchie Io se no Non ci sarei arrivata Quindi questo Sì è gossip Ma c'è dietro Evidentemente Qualcosa da pubblicizzare E monetizzare Sì Tra il momento Mi viene a dire Che sicuramente Il problema qual è Il mischiare La vicenda umana Cioè Sicuramente Stiamo parlando Di due genitori Che si stanno separando Che stanno Comunque Io ci penso sempre Nonostante sapete Che non è che proprio Ami i bambini Lo dico spudoratamente così Però Io continuo a pensare Comunque a questi due poveri Cristi Non si vedono più Pochissimo In mezzo a questo ginepraio Quindi da una parte umana Poi comunque Io ci credo Il fatto che fossero due Che si innamorati Che stavano insieme Anche secondo me Su questo secondo me La sofferenza umana Secondo me c'è A me sconvolge Il fatto che In questa sofferenza umana Molto probabilmente E comunque tentare Di cercare Comunque di continuare Nel loro lavoro È il lavoro Esatto Anche in coppia Nonostante separati Cioè non so come dire Cercare di creare Queste situazioni Per cui Poi è win-win Per entrambi La situazione Dal punto di vista Commerciale Economico E aziendale Umano Sicuramente no Però No 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 Lei ha avuto Un gravissimo danno Adesso lei parla Di progetti nuovi Si parla anche Di una sua parte Recitativa In un film Non diciamo di più Andate a cercare Sì ho letto qualcosa E quindi Si fa anche fatica Dopo una botta del genere A rimanere a Gala Tant'è che Alcuni maligni Dicevano Fedez Appena la luce Si è spenta Il falena Come lo chiama Selvaggia Lucarali Se ne è andato Ok E giustamente Non voleva magari Neanche essere Troppo coinvolto In questa cosa Anche perché Fedez Lui stesso Faceva beneficenza Con appunto Sempre coinvolti Bambini Ma è stato Controllato tutto E Fedez Ha tenuto a dire Qualche settimana fa Che le sue società Sono uscite Pulitissime Anche la beneficenza Che ha fatto Ne è uscita pulitissima Eccetera Quindi Molti poi dicono Sì ma non devi Mollare tua moglie E altri dicevano Erano già in crisi Da mo Quindi sai Anche Ma tutto si mischia Il gossip Anche a Delle cose serie Aziendali E di persone Che lavorano Ecco Il problema è che si mischia Tutto infatti Quindi è complicato Gestire Sì In realtà posso Il film che dicevi tu Potrebbe essere Il prossimo film Su Maserati Ah Vedi Tra parentesi Mi viene da dire Bene Tutto bene Però posso dire Avete fatto Ferrari Avete fatto Lamborghini Mo Maserati Tra parentesi La stessa casa di produzione La sta facendo Cioè Va Che è una enciclopedia Dell'automobile Cioè Basta Ma Fedez si comprerà Quindi una Maserati Fra poco Interessante Capire quello Infatti O ce l'ha O farà una canzone Intitolata Maserati Maserati Non so Qui devo dire Che la vera Però Su questa cosa qui Delle canzoni così Diciamo che Shakira è stata Una delle prime No Le revenge song Certo Molte persone Sono sempre state Però non erano così Alla portata di tutti Adesso poi Shakira è stata quella Che poi le ha sdoganate Le ha fatte tipo Due o tre Poi abbiamo fatto Un album intero Praticamente Si è calmata la Shakira Però esce con un bono Posso dire Meno male Anche perché posso dire Che non ce ne frega niente Noi altri A me sì Sì ma a me piace Sentire una canzone Non perché Te sei incazzata Però spaccava la canzone Un ritmo Wellà Non lo so Preferisco Adele Che ogni volta che la lasciano Fa un disco Adele è un altro stile Fa un disco Però fa un disco L'hai vista quella matta Sul palco Adele Che si è incazzata Con quello del pubblico Che ha detto Pride Sucks Sì sì Lei ha detto Praticamente Sucks 2 Gli ha detto Ma tu veramente vieni qui Al mio concerto A dire una roba del genere Sei stupido Stai zitto C'ha ragione Matta come il botto Adele Sempre nei miei pensieri Adoro L'adoro da sempre Da sempre Da sempre Andiamo con la musica E poi torniamo qui Perché siamo quasi in chiusura Siamo quasi con i saluti finali E questa è Nina Zilli Insieme a Giuliano Palma Con 50.000 Io lo adoro questa canzone Ma io Giuliano Palma È proprio un pezzo Della mia gioventù C'è poco da fare C'è lui Le sue trombe I suoi Scano Sky I suoi blues Davvero Io ho sempre Amato tantissimo Giuliano Palma In questo caso Nina Zilli Canzone Che sembra una canzone Che arrivi da chissà quando Da chissà dove 2009 Eh sì Che ormai È un po' lontano del tempo 15 anni fa Però Tu immagini E invece Perché quando Due artisti Di quel calibro Si incontrano Questo è quello Che sono a produrre Silvia siamo quasi In conclusione Va bene Non ti ho fatto La domanda principale Perché ho detto Oggi appunto Abbiamo provato Gli esami di maturità Cariglose Cambiano Avevano fatto A terza prova Che ho scoperto Che non esiste più A terza prova Non esiste Ecco Ma c'è l'orale Giustamente C'è l'orale Non avevo studiato Quella che allora era Economia aziendale Perché non riuscivo neanche A collegarla a Pasolini E non la ritenevo interessante È un po' difficile Io decidevo Ho capito Perché ero un po' Paracchula La prof di economia aziendale Adirata Come mai Mi ha corretto Tutte le S Della terza persona In inglese Non dette Lei E non la prof di inglese Io ti dico solo questo Io ti dico solo questo Ecco In più sembravo Nancy Spangen La ex di Sid Vicious Come mi sono prese Quindi guarda Eh però io Se non ricordo male Spero tu abbia fatto Una fine migliore Sì sono qui Per questo Perché mi ricordo Che non era finita Molto bene No è morta Ecco Però nera Insomma La prof di economia aziendale Che saluto ovunque sia Ma fammi capire Ma eri l'unica In tutta la scuola così O c'è avuto un bel gruppetto Ho avuto un bel gruppetto Di piccoline Che si sono aggiunte Un paio d'anni dopo Ho dato il via Erano più fricchettoni Avevi la tua clac dietro Purtroppo sì Per loro Le groupies Le groupies Sì 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 Perfetto va bene Silvia andiamo con la sigla Sì dai Sigla Andiamo spazio agli Sly and the family stone Con la nostra sigla Dance to the music E alle 8.56 Silvia Gatti e Fabio Ranfi Vi danno appuntamento A lunedì Con una nuova puntata Di Good Morning Milano Grazie per averci ascoltato Quest'oggi Cosa vai a fare di bello Adesso poi Silvia Dopo la trasmissione Devo stirare Devi stirare Sì 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 Devo stirare È così Questa è la vita La nostra vita Da grandi Da punk a stiratrice Pensa te Pensa te Però dai Dimmi che stiri Non so Calze a rete Magliette con sussit vicius Così almeno c'è Allora le calze non si stirano So però Le collant Un punk No no Un punk devi stirare Per fare gli buchi Adesso Non le uso più Per essere punk Le calze a rete Ok Non voglio usare Usi quelle contenite No scherzo Sì sì È esattamente quello Quello è il vero punk Quello è il punk Niente qui La colpa è di Bridget Jones Lo sappiamo La storia dei mutandoni In poi Arrapanti Vedi ecco Da quando Basta Ce l'ha distrutto Tutto l'immaginario Interrogazione e maturità Dopo di noi Cosa succede invece Qua su Cristal Radio C'è Alberto Curti Ho studiato No sì Si chiama Ambrogio Ma è sempre Ah già Alberto Tranquillo Che è Non mi aggiungere un nome Ad Ambrogio Curti Perché si chiama Ambrogio Gianfranco Curti Ci mettiamo un po' con Alberto in mezzo Non ne veniamo più a capo Però ho fatto il cognome giusto Giusto sì 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 Senti questa Ambrogio Curti dopo di noi Buon weekend Allora Noi ci sentiamo lunedì Con Silvia venerdì Grazie di essere stato qua con noi Buona giornata Grazie a voi Grazie a tutti Questo è Good Morning Milano Questa è Cristal Radio Vi dà appuntamento A lunedì Buon weekend Ciao a tutte e a tutti Ciao